Sono un informatico, sono a Manfredonia per motivi familiari, io sono originario di questa città e abbiamo approfittato della possibilità di poter fare smart working per allungare il nostro periodo di villeggiatura. Da venerdì 6 agosto e sino al 15 settembre Manfredonia avrà la sua social wifi street in via Santa Maria delle Grazie tra gli scorci più caratteristici e vitali della città per consentire a tanti professionisti in vacanza o di ritorno dai propri cari di poter svolgere il proprio lavoro all'aperto, supportati dalle ultime tecnologie in fatto di connessione internet. L'innovativo progetto social wifi street del co-working Smart Lab, Animal Living Network, Prime Gadget Manfredonia, bicchieri e taglieri, cibo e felicità, nasce dall'analisi del consistente aumento del flusso di professionisti che praticano south working e smart working, soprattutto di rientro dal nord Italia sul territorio, in particolar modo durante questo periodo dell'anno. La social wifi street sostanzialmente è l'utilizzo degli spazi di un locale, bicchieri e taglieri di Manfredonia, in questa magnifica via di Manfredonia, utilizzando un wifi potenziato e delle connessioni per alimentari, c-smartphone eccetera. Quindi chiunque può venire a lavorare, magari anche gustandosi una buona birra, ma lavorando in questa cornice. Siamo in uno dei luoghi più caratteristici della città, in centro e all'aperto, quindi perché non accettare l'ennesima sfida, soprattutto se l'obiettivo è quello di intraprendere delle relazioni personali, e quindi a livello sociale, perché non farlo davanti ad una birra o ad un caffè. Grazie.